Questo festival è stata un'esperienza molto importante, soprattutto anche per il tema che ha permesso di partecipare anche al mio lavoro, che sono schizzato, in cui un viaggio nel mio paese di origine si è trasformato in un racconto intimo, nato comunque da un dialogo con i membri della troupe, con le ragazze che hanno partecipato alla troupe, che sono state disponibili e che hanno vissuto come questa esperienza che è stata anche catattica da un certo punto di vista. Come tipo di film penso che sia importante, anche come tipo di esperienza lavorativa, perché permette una conoscenza del valore del viaggio e anche del valore delle esperienze personali che sono legate.